Nessun ferito, nessun disperso, ma la paura è stata tanta quando questa mattina una valanga si è staccata in zona Lago Nero all'Abetone. La valanga è stata a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi o da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista, aveva fatto sapere il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti. E i primi sospetti si erano concentrati proprio su uno snowboardista che avrebbe causato con il suo passaggio il distacco di neve fresca. Potrebbe però essere stata provocata volontariamente da un maestro di sci che, visto il fronte nevoso pericolante, si sarebbe adoperato per prevenire i danni. Il rischio valanga, aveva spiegato l'assessore al turismo Andrea Formento, è di 2 su 5, non era un evento prevedibile. È stato uno sciatore che è riuscito a mettersi in salvo a dare l'allarme. Il sindaco è sempre rimasto in contatto con la protezione civile. In un primo momento si temeva, infatti, che ci fossero persone coinvolte e si sono alzati in volo tre elicotteri per controllare il territorio dall'alto, il Drago dei Vigili del Fuoco e due Pegaso della Regione Toscana. Sul campo, per controlli da terra, anche personale della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino. Con loro anche personale specializzato nel soccorso di montagna della Polizia di Stato, al quale già nelle prime ore del pomeriggio non risultava nessun disperso. Sono comunque proseguite le operazioni di verifica e di bonifica dell'area.